Hey love, buongiorno, buonasera, buonanotte e benvenuti al nostro canale Io sono Aldi E io sono Auri E siete su Aliauri Channel Come avete già letto dal titolo Siamo qui finalmente per spoilerarvi il nostro progetto super speciale Veramente ci stiamo lavorando da tantissimo tempo E vi abbiamo mandato una quantità di spoiler veramente eccessiva Ecessiva mi sa Ma finalmente oggi capirete tutto, basta segreti Infatti saremo qui per svelarvi ogni nostro piccolo segreto E per parlarvi bene di tutto quello che accadrà nei prossimi giorni Ma prima Piccola parentesina E da un sacco che andiamo avanti dicendovi quale unghio ho fatto io Tra l'altro le ho pure spoilerate in una storia ma non importa Noi siamo messe male con gli spoiler Sono queste qui, sono di questo colore che tra l'altro con il freddo e il caldo cambiano colore Wow cioè assurda, la tecnologia è proprio evoluta Passano da questo verdino a un azzurrino Qui ci sono delle macchette in rilievo che dovrebbero sembrare delle mucche In realtà quando le ha realizzate sembravano più delle nuvolette Quindi prendiamo le buone e facciamo fida che siano delle nuvolette Esatto, mentre le mie sono queste come ve le ho già spiegate nel video del desk tour E niente, le amiamo veramente tantissimo Ma veramente chiudiamo questa parentesi perché questo video deve essere incentrato sul progetto speciale È veramente da mesi che ci siamo sempre più sentiti, una community Unita e forte È sempre più grande, veramente siamo grati tutti voi, siamo così fiere, vi vogliamo un mondo di bene Che dà la nostra gioia E la nostra famiglia Quindi abbiamo pensato che ci sarebbe tantissimo piaciuto che voi Aveste una parte di noi con voi ogni giorno da portare con voi È proprio come se fossimo accanto ogni momento della vostra giornata Abbiamo riflettuto anche insieme ai nostri genitori che cosa poter fare per lasciare un segno Per realizzare questa nostra idea E siamo giunti finalmente alla conclusione Tra l'altro molti di voi l'hanno anche indovinato con tutti gli spoiler che abbiamo fatto Siamo fatti veramente tanti, siamo stati troppo buone E nulla, direi che è ora di dire finalmente il progetto Uno, due, tre Il nostro sito di e-commerce Siamo veramente super mega entusiasta e non vediamo l'ora che lo vediate Abbiamo lavorato con i nostri genitori giorno e notte Per portare i nostri prodotti preferiti, quindi i nostri must have Che ci accompagnano quotidianamente senza i quali non potremmo assolutamente vivere Ma oltre a ciò anche una linea di prodotti personalizzati alle aure Sì, interamente locati Tra l'altro anche con un effetto wow che però 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 ve ne parleremo meglio nei prossimi video Infatti come vi abbiamo detto su Instagram e su tutti i nostri social Che vi lasciamo tra l'altro scritti sotto in infobox Questa settimana uscirà ogni giornale alle 18 un video Per portarvi e per rendervi partecipi in tutto il lavoro che abbiamo fatto per arrivare fino a qui Sì perché voi vedete solamente il prodotto finale Ma di dove ci sono veramente mesi e mesi di lavoro E siccome siamo una vera e propria famiglia Per arrivare al risultato finale ci si arriva insieme Quindi ci teniamo molto che voi vediate tutto quello che abbiamo realizzato insieme Come se voi foste stati accanto a noi per realizzarlo Infatti nei prossimi video che usciranno anche nei prossimi giorni Vi presenteremo i protagonisti di questo sito di e-commerce Ovvero i prodotti Sia quelli che per noi sono i must have Che quelli appunto logati agli auree E vi sveleremo finalmente l'effetto wow Perché voi non avete neanche idea Proprio cioè una cosa inimmaginabile Una cosa unica perché rispecchia la nostra community È unica È unica come noi appunto la nostra famiglia digitale Quindi infatti in questo video parleremo meglio di tutto quello che c'è stato dietro del nostro pensiero Che si è concretizzato Anche perché la maggior parte delle cose che vedrete le abbiamo pensate noi in prima persona E realizzate noi in prima persona Le abbiamo disegnate e progettate da zero Ma direi che adesso possiamo iniziare col video vero e proprio Sì proprio di sì Quando ci è venuta questa idea Siamo dovute partire letteralmente da zero con la realizzazione del sito vero e proprio E siamo partite dai nostri colori principali Ossia l'azzurro E il bianco Ma sicuramente l'avete indovinati pure voi Perché sono proprio i colori del nostro logo Di tutto Di tutto Accompagnati dai nostri simboli quali la farfalla e il diamante La farfalla è il simbolo di libertà E spensieratezza Quindi noi siamo particolarmente attaccate a questo logo Che rivedrete assolutamente dappertutto Sia nel sito ma anche nei prodotti Ma soprattutto nei prodotti logati ragazzi Sono veramente Ma vedete nei prossimi giorni Non possiamo ancora spoilerare tutto Abbiamo scelto noi in prima persona tutti i font Tutte le scritte le abbiamo scelte noi Infatti siamo partite a costruire questo sito come una casa Cioè dall'una, dalle fondamenta Tutto quello che vedete appunto l'abbiamo pensato noi Perché volevamo proprio che venisse trasmesso questo pensiero Perciò ogni piccolissimo dettaglio C'è una grandissima parte di me e di Lailie Ci riconoscerete in tutto Perché è quello secondo noi Che è il punto di forza Di quello che vedrete veramente a brevissimo Esatto Lo vedete con i vostri occhi E speriamo che vi piaccia tanto quanto Noi siamo andate matte Siamo super mega fiere E non vediamo l'ora di farvelo vedere Durante tutta questa realizzazione e ricerca dei prodotti Che è stata veramente ardua E non è ancora finita perché usciranno anche i prodotti Back to school, inverno Ma Ne parleremo in un altro video futuro Esatto Siamo state molto 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 attenti al rispetto dell'ambiente Perché è una cosa che ci sta veramente a cuore Infatti tutti i nostri packaging Sono ecosostenibili, riciclati e riciclabili Soprattutto E quindi abbiamo fatto una ricerca veramente Veramente Accurata Accurata Insieme a nostra mamma Che è stata veramente fantastica Che lei è più attenta di noi su queste cose E abbiamo realizzato i nostri packaging personalizzati Veramente ci abbiamo messo il cuore E direi che possiamo farne vedere un piccolo pezzettino Frutti Infatti conquistando questa scatola Abbiamo aiutato a piantare un alberello Secondo noi è una cosa super carina E quindi tutti i prodotti del nostro sito di e-commerce Arriveranno in questo pack Ovviamente Ci saranno tre forme di scatole Questa qua è quella media Ci sarà una più piccola e una più grande Qui vi lasciamo un mini video Di quando ci è arrivata la prima scatola piccola Ed eravamo veramente super entusiaste Sì È come se avessimo appunto creato un figlio dal nulla Stasera io oltre Sono arrivate le scatoline più piccoline Guardate quanto sono carine Ovviamente fatte in materiale riciclato Come appunto dice qua Abbiamo aiutato anche a piantare un albero E abbiamo lavorato un sacchissimo Ma il pack ovviamente non finisce qui C'è stato uno studio accuratissimo di come realizzarlo Infatti quando acquisterete appunto il pacco Non arriverà solamente questa fantastica scatola Dentro ci sarà anche una velina bianca Con le farfalle azzurre Questa Anche questa ovviamente super attenta all'ambiente Come tutto quello che abbiamo fatto Riciclata e riciclabile Oltre a una dedica card e una thanks card Abbiamo interamente realizzato noi due Sull'iPad veramente Ci abbiamo messo tantissimo tempo in lettering Quindi siamo noi La parte l'ha fatta l'Elida Io c'ero col pensiero Che la ho in mente io il braccio Abbiamo litigato con la stampante Perché non riuscivamo a stampare le thanks card E insieme ai nostri genitori le abbiamo ritagliate una a una E le abbiamo messe lì da parte Che aspettano soltanto voi E speriamo che appunto vi piacciono Perché noi le abbiamo chiamate dal cuore Ci abbiamo messo l'anima e tutta la nostra personalità All'ora interno I nostri colori Il nostro font Veramente siamo noi Inoltre una cosa super super mega carina Che abbiamo pensato di fare Sono queste specie di piccoli sacchettini speciali Con scritto sopra gift Anche questi qui sono stati interamente realizzati E pensati da noi Diciamo che la scritta appunto Il lettering gift L'ha fatta da Ellie Abbiamo scritti mano a mano Uno a uno Io Allora oggi inizierò a scrivere I bigliettini Dove dentro ci sarà l'omaggio Che arriverà quando si farà l'ordine E abbiamo fatto un paio di prove E abbiamo optato per scrivere Gift Con questa bellissima brush pen Devo scrivere tutti questi sacchettini Però iniziamo con calma Magari con i primi cento dai Infatti appunto come vedete Nel video Lely era in chiamata con Giorgio Oppure stava ascoltandosi la musica Ma era sempre lì che creava appunto La scritta gift Perché secondo me è proprio questo Che sta L'unicità E farle noi le cose In modo che voi possiate Ricevere quello che siamo noi Avere proprio una parte di noi Con voi Un pezzettino sempre con voi E al suo interno ovviamente Si chiama gift Perché c'è un regalo Che vi abbiamo già sperato In numerosi video Che però appunto Scoprirete quando acquistarete il pacco E secondo noi è una cosa molto molto utile E carina E carina veramente Vi piacerà da morire Non vediamo ora che lo riceviate Un passo super importante E decisivo È stato quando siamo andate Dal fotografo Come vi abbiamo spoilerato Nelle storie Instagram Siamo andate tre domeniche A farci fotografare insieme Ai prodotti del sito E poi noi sole Per fare delle foto Un po' più scherzose Che ritroverete All'interno del sito Per cui vedrete Sia tutte le foto determinanti Dei prodotti del sito e-commerce Ma anche delle foto Di me e Lely Scherzose Con degli oggetti Che ci rappresentassero E che ci facessero vedere Anche un po' la nostra natura Scherzosa Giovanile E la nostra personalità Abbiamo trovato anche due ragazzi Super mega simpatici E professionali E giovani Che ci hanno subito capite E che ci siamo divertite Veramente tanto Insieme a loro Esatto e quindi siamo state Molto 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 happy E ci siamo divertite anche un sacco Infatti abbiamo registrato Un piccolo vlog Che adesso vi lasciamo Che parte dalla preparazione Infatti siamo andate Anche dal parrucchiere Quando le zone lo permettevano E' stato stra bello Ci siamo sentite tipo Delle modelle divine Trattate veramente Come delle regine Per realizzare tutte le foto Che poi vedrete sul sito Veramente a brevissimo E quindi vi lasciamo In questo piccolo vlog Hey la Io sono appena tornata Da farmi le unghie Per lo shooting di domenica E wow Sono così Sono bellissime Stiamo andando a fare la spesa Però Vabbè Questo è un dettaglio a parte Però volevamo dirvi Che siamo troppo 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 agitate Perché abbiamo fatto prima Una call Appunto Per i dettagli Il progetto E quindi non vediamo l'ora E domenica Andremo a fare Il servizio fotografico E veramente Siamo troppo excited Ecco il mio beauty Per truccarmi domani Dopo il parrucchiere Sono già in pigiama Adesso devo andare a lavare La beauty blender E la Auri E la Auri è pronta Anche lei si sta facendo le super figlie Buongiorno a tutti i mondo Siamo super mega stanche Perché domenica non siamo abituate ad alzarci Alle 7.40 Comunque adesso siamo in un paesano Ma ci vestiamo molto easy peasy Andiamo alla parrucchiera A sistemare questo disastro Per appunto Lo shooting Per il nostro sito Eccolo abbiamo recuperato anche la Ellie Che faccia la Ellie? Sì siamo super mega orribili Ma vedrete che tra un'oretta Sarà tutto trasformato Quindi Guardate che bel brufolo Proprio il giorno di servizio Adesso andiamo a cambiarci Perché così non ci si può vedere Ma ci truccheremo dopo il parrucchiere Perché appunto Se no Acqua piega Si rovina tutto E non si può rovinare Eccoci tutto il nostro splendore Siamo in macchina Stiamo andando in direzione al parrucchiere Ovviamente abbiamo la filpa Che si apre così Se no i capelli Ciao ciao E qui abbiamo tutti gli outfit Che dovremo poi provare Durante il servizio Che abbiamo tutti ben organizzati ovviamente Io adesso è tipo a mezzanotte Ma non sapete i nostri orari Siamo super felici Lo vogliamo allora Siamo arrivati al parrucchiere Che per l'altro è aperto Soltanto per noi Che è domenica Il nostro parrucchiere Di fiducia Cioè siamo sempre venuti qui E ci troviamo troppo bene Eccoci qua dal parrucchiere Eramo veramente stanche morte Ma super emozionate Ma super emozionate E siamo sottotate veramente da regine Esatto Ci hanno fatto un lavaggio Un massaggino alla testa Stupendo Infatti abbiamo un po' dormito Sulla sedia Ma dettagli Noi andiamo sempre Stato strano Cioè è palese Vabbè Devo giù una sistemata Il primo giorno di shooting Ci siamo dedicate principalmente a fare foto dei prodotti E abbiamo capito un po' come funziona Visto che era la prima volta E non è così semplice farsi fotografare in posa Esatto Anche perché bisogna capire la posizione giusta Per i prodotti La tua faccia migliore Il tuo profilo Ma non vi spoilereremo tutti i prodotti ovviamente in questi video Perché vi aspettiamo Tutta questa settimana alle ore 6 In premiere per i prossimi video spoiler Esatto E quindi noi con le nostre bellissime pose Uh una penna Diamola in testa l'aurora Secondo giorno di shooting Eravamo anche qui Sta anche morte Ci siamo sia truccate Che fatte i capelli a casa Perché eravamo in zona rossa E quindi non potevamo andare al parrucchiere Mi siamo in ritardo Molte Anche oggi abbiamo fatto prodotti A go go Terza giornata di shooting Raga Oggi è Ok Pronte per andare in scena Terza e ultima giornata di shooting Ormai avevamo preso una mano Per cui ci siamo divertite veramente un mondo Sì infatti questa giornata è stata dedicata Quasi interamente A fare le foto scherzose Che troverete appunto sul sito E adesso ne vedrete un po' E siamo state veramente noi stesse Anche accompagnate da alcuni oggetti Tra cui le spade laser di Star Wars Ma shhh Sìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì proprio meritato direi di sì vero papà? certissimo con il vlog è finito anche questo video che è il primo di una grandissima serie come vi avevamo detto speriamo tanto che la sorpresa vi piaccia e vi abbia reso felici e entusiasti perché noi siamo veramente al settimo cielo speriamo anche che siate molto curiosi anzi ci farebbe molto piacere se ci scrivesse qui sotto nei commenti quali prodotti pensate ci siano sul sito o anche semplicemente che cosa pensate di questo progetto di cosa vi aspettate vi aspettiamo domani in questo youtube alle ore 18 per svelarvi alcuni dei nostri prodotti che ci saranno appunto sul nostro sito di e-commerce e non vediamo veramente l'ora io e Laura siamo troppo felici noi vi mandiamo un grosso bacio e vi aspettiamo domani qui su youtube piccola parentesi non saluteremo nessuno in questa serie di video ma riprenderemo da settimana prossima vi vogliamo buono e di bene ciao